Signori bentornati sul canale del Buon Devi, oggi ci giochiamo la corazzata di livello 10 giapponese Bungo Siamo nella mappa acque settentrionali in modalità supremazia, 5 corazzate, 4 incrociatori, 3 cacciatori perinieri L'analisi della nave ce la vediamo a fine partita, così mi prendo un pochino più di tempo Tanto comunque sia, l'avete vista spesso e volentieri, cioè ne ho parlato spesso e volentieri di questa nave Ancora di più nell'ultimo video che ho caricato dove vi parlavo della dispersione del Sigma Quindi se siete curiosi di capire come funzionano le meccaniche di gioco riguardanti lo sparo delle corazzate Vi consiglio quel video perché vi spiego veramente da A alla Z quello che avviene subito dopo lo sparo Per farla molto breve, la Bungo è la nave più precisa tra le navi più precise del gioco Ma direi senza problemi che è la più precisa perché mantiene un Sigma di 2.2 Ripeto, se questi termini magari non vi suonano familiari c'è il video che vi spiega tutto quanto La cosa che mi preoccupa a me sinceramente... no aspetta aspetta Sì mi conviene forse sì esatto, facciamo quell'altro movimento, facciamo un movimento più a destra Ho levato... ho messo la propulsione Perché questa è una nave che comunque rispetto alla Yamato secondo me si deve muovere leggermente di più Quindi magari ha una possibilità di... Dove va il cazzonis? Che non è una parolaccia ma è il nome della nave Ok questa battuta farà perdere scritti, me ne rendo conto Se siete dei gaccia d'orpenieri per l'amor del cielo Non lasciate il vostro punto di spawn Se siete spawnati su Charlie dovete giocare su Charlie Non è che il bafo... no è così La regola implicita del gioco dice che... Due punti Ci sono gli estremi per fare il meno uno? Sì Per me è giocato male Se lasci il cap, la zona, è giocato male Bah forse puoi far kraken Intanto tu metti in difficoltà un settore Che è quello di Charlie Dove in primis... Eh voglio dire... È un cap, è un cap libero Non capisco proprio il motivo sinceramente Ecco qua, abbiamo zero spot E cosa significa se abbiamo zero spot? Che non spariamo Se non spariamo non facciamo da... Oh! Datemi quel centimetro in più! No! No! Non ci arrivo Porca miseria Vabbè Ci ho provato No l'idea era bella ma Probabilmente non c'è nessuno C'è un buon marzo Rimane l'Alvaro de Bazan Ehi Sarà una partita brutta Che scatole Preferisco sparare al cacciatore periniere Guarda Con il mio aerospottino Lo becco in pieno Beh scusate eh Sono 5400 punti Boom Cancellato il marzo Cancellata l'attaco Aiuto! C'è quella scifle che non mi piace Pirata secca a destra Sono spottato Sono perma spottato Ringraziamo il cacciatore periniere che se n'è andato Molto gentile Grazie 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 Sono infazzito Secco a destra L'Alvaro che ha messo il fumo No ma non sono sicuro che sia l'Alvaro Sai Eh no L'Oakland L'Oakland che ha messo il fumo Interessante Una tattica mai vista Sei sicuro di poter tankare I miei 457 Con quella navetta Eh ma io c'ho le secondarie E tre rimbalzi Che po' che vuol dire tre rimbalzi Come fanno tre colpe a rimbalzare Eh Eh se vieni a di là Ci sono io Se vieni a di là Ci sono loro Eh eh Deciditi A te l'ardo ha scelta Ti aspetto di là Va bene Vabbè qua ovviamente mi massacra con le secondarie Ma Poi massacro io lui Avrei preferito un radarino Radar per lontano Solita fortuna Ma mi sta guardando a me Non sto capendo Sì ma è un po' indeciso Sì ma è un po' indeciso Aspetta 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 Cazzo Ah l'Oakland è lì Ah 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 Allora è il DD quell'altro Dai un nuovo incendio One shot GG sono forte Virata secca a destra Guarda io caricherei il video solo per Per sta scena Ora sapete perfettamente che io quando vado sul bordo mappa Se mi dovessi mai trovare Comunque non sparo Quindi adesso che Involontanamente vado sul bordo mappa Non sparo In realtà Ah esilui della cosa Guarda sono disposto anche a prendermi il siluro Sincero Che non si dica che io Gioco col bordo mappa Vabbè vai prendi il siluro Tanto comunque Ma ti è spento Mi spiace il destino Alle volte codere No c'è l'altro Ok mi spiace Sinceramente c'è un cacciatore periniere Che è fastidioso È l'Alvaro Rebasan Ah si vabbè Il cazzonis che non gioca No due corazzate Questa nave ragazzi Questo gameplay magari ve lo carico Perché Può essere vagamente simpatico Soprattutto la scena sull'Oakland E poi per farvi vedere Ancora una volta Insisto Il fatto che Lasciare il cap Quando Lasciare il cap Quando siete un cacciatore periniere Non fatelo Mettete in difficoltà una squadra Perché se poi dall'altra parte Magari c'è una squadra un pochino più forte Rispetto a quella avversaria Partita persa Sto colpo brutto Porca misera Si poteva fare Dovevo fare di più Almeno salire a 130 Caricare una partita Con 90.000 danni Per l'amor del cielo Mi sembra un po' poco Mi sembra poco C'è qua a destra La Sung Yatsen La trovate già disponibile Sul canale E Troppo anticipo Infatti i colpi vanno Sulla torretta Porca miseria ladra Mi ha sparato Stavo già virando Mi spiace Mi spiace Mi manchi pure Ti sto dando il lato Mi puoi one shotare I navi giapponesi Sono veramente inefficaci A corto raggio Per una questione di Resistenza Perché posso subire Delle cittadelle Veramente elementari Però Finché lui fa così Guarda Sarei anche tentato Ad aprirmi Ma io l'ho detto Che c'era l'Alvaro L'ho detto Tre ore fa L'ho detto L'ho detto Tre ore fa Che c'era l'Alvaro Porca miseria L'urida Maledizione Eccolo lì Perché prima l'ho visto E fumo E spara Chi può essere La fatina Ci siamo chiusi 1450 Con una buona chiusura E qua Penso che lo chiudiamo Alzo leggermente Il colpo Perché lui sta facendo La pirata Per non far cadere Colpi in acqua Centrale Tac E che cavolo però Oh io ho una sfiga assurda Che mi rimangono le navi Sempre a mille punti L'urida Tanta pazienza Dovrei mettere l'HE E mettiamole Eh ma 24 secondi di ricarica Forse mi conveniva Lasciare le AP Vabbè Dettagli Quindi per Per concludere Il discorso Che facevo prima I cacciatori per neri Ragazzi Facciamo un attimo I seri Al netto dello show Ok Hanno un ruolo Fondamentale All'interno del gioco Hanno un ruolo Fondamentale Se voi Non spottate O bene andate E se non si vede Come si fa Uh ha virato Mi ho fatto male Forse un 8000 L'ho smantellato Praticamente Le secondarie famose Le secondarie Della Bungo Vuoi vedere che mi devo Prendere Moisi Luri Abbiamo una buona corazza Tutto calcolato Tutto calcolato Poi se mettiamo La Ma miseria Ma questa nave Non ha senso Sta nave No in realtà Mo al netto di tutto È una nave Che comunque Rispetto alla Yamato Secondo me Ha un po' più di agilità Ragion per cui Mettere una propulsione Potrebbe aver senso La Yamato Prima di tutto Ha delle torrette diverse Ha delle torrette sulla prua Quindi non ha bisogno Di fare destra Sinistra Di movimenti strani Eccetera eccetera In più Questa qui Ricarica più velocemente Cioè è un discorso Un po' diverso La Yamato Con questo punteggio Potremmo aver fatto Al netto delle navi Di livello 8 Ma potremmo aver fatto Anche un 2000 2000 Devastante Cacciatore periniere In realtà Volevo fare molto di più 174 è poco Diciamo che una media Con sta nave Potrebbe essere Su 150 partita Come media Intendo Se volete fare Già la partita interessante Da 200.000 In poi Ma dipende Anche questo ragionamento Me lo dico Solo che è sbagliato Perché ogni partita È una partita a sé Quindi se Noi abbiamo avuto Queste possibilità di tiro Perché c'erano quelli Ok Quindi 174 In realtà È il massimo Che abbiamo portato Fuori dal cilindro Potevamo fare Qualcosina in più Sì Forse potevamo salire A 200 Ovviamente Per fare i famosi 300.000 danni Ci devono essere Le condizioni ideali Una corazzata Bella ferma Tu dietro all'isola Con l'incrociatore Spare l'HAE Te lo farmi Quando arriva un altro E te lo farmi Così siamo tutti bravi Non è che ci vuole Voglio dire Tanto no L'incendio Fa il danno E continua a sparare Magari ti metti Con uno smones Con quello che sia Mentre magari Con le corazzate Serve la legnata Serve il devastante La ricarica è lenta Eccetera Eccetera Dipende Caso per caso E poi Insomma Mi sono ritrovato A fare 200.000 danni In 10 minuti Non ve lo nego Perché magari Quello ho detto Quello l'ho devastato Ok Su 17.000 partite Mi è capitato Non dico sempre Perché non è vero Però Qualche volta Mi è capitato Di fare Un 100 Un 130 Un 120 In 5 minuti Come ho fatto Devastatore Ho preso di mira La corazzata Tac Tac Brucia Cioè in realtà Erano più corazzate Perché poi Cos'è che si può fare L'incendio Lo vado a dividere Su più navi Non è che attacco Sempre la stessa nave Perché altrimenti Scatta il secondo incendio E magari lo ripara Se tu fai un incendio A quello Un incendio A quello Un incendio A quell'altro Fai il danno continuo Per tre volte L'incendio Mi seguite Perfetto Quindi vabbè Poi insomma Valutate sempre Eh ma c'è sta cacchio di isola Ma perché c'ho sempre Qualcosa davanti Dico io Incredibile Lui sta facendo Una bella viratina Senti io devo sparare Hai fatto una mezza Una finta virata a destra E io ti pre... Ho preso l'isola No Ni 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 Semplicemente ni Se fossero andati Eh con i secchi Ma non si fa niente Aspetta vado dentro casa Delle persone Ferma La nave 180 Mi viene da ridere Mi viene da ridere Comunque Il cacciatore peniere Che lascia la posizione Pronti via Bu Qua abbiamo fatto Sai che mi ha dato Più di 2000 Perché sul cacciatore peniere Gli ho dato una bella legnata L'ho smezzato Quattro cittadelle Poteva venire qualcosa in più Sul colpo della montana Lì ho perso danni Ecco il 200.000 Come si poteva fare Questa è una partita Secondo me Dai 2000 2300 La partita giusta Se il moltiplicatore Dell'esperienza È impazzito Potrebbe avermela Pagata Più di 2500 Però ritengo Che siamo Tra i 2000 E i 2300 Ma no Ma chi Ma chi sono Chi sono 2002 Tutto qui dentro Tutto qui In questi neuroni Non vi siete iscritti Cosa devo fare Per farvi iscrivere Al canale Per far mettere Il mi piace Ditemelo Vi indovino pure I risultati A posto sconto Rapporto dettagliato Abbiamo fatto 37.000 Sull'Oakland 13.700 Sull'Alvaro Duniazene Sul 61.000 La Shiflen Sinceramente È a lungo andare Non sottovalutatela Perché comunque Le secondarie Mi penetravano Scattavano incendi Eccetera eccetera Quindi è una nave Sì Soffice Che gli fate male Però ecco Non esagera Non portatela Troppo alle lunghe Altrimenti Se entra in regime Può attivare il talento Del capitano Eccetera eccetera Vi scioglie In tre minuti Netti Anche qualcosa in meno Sulla montana Abbiamo fatto poco E sul Marceau Secondo me Vi dirò In tutta sincerità Che io potevo mettere a segno Anche più Più colpi Solo quattro colpi Sono pochi Dovevo Sparare leggermente Più a sinistra Forse sei colpi Potevo arrotondare Altri duemila danni Però vabbè Insomma Ci accontentiamo Di quello che è stato Il verdetto finale Che ci indica Inoltre Che portiamo a casa La bellezza Di un milione 124.707 Crediti Che vanno Ad aggiungersi Nel nostro conto In banca Magari C'è qualche milionario Che mi segue Tipo Butto lì Torniamo nel porto Va Ora Se noi facessimo Una velocissima Comparazione Tra le tre Corazzate Giapponesi Di livello 10 Potremmo notare La seguente cosa Che la Bungo Tanto per incominciare È la più veloce Quasi 32 nodi Buttali via Rotazione Parallel timone 17.4 Secondi Che sono Molto di meno Rispetto ai 22 No Ai Dunque Ai 22 Della Yamato 22.1 Ricordavo bene E sono Leggermente In più Rispetto ai 18.7 Della Shikishima Qualcuno potrebbe dire Però la Shikishima È molto più lenta Quindi la Bungo Al netto Di tutto Sto ragionamento Mantiene Un rapporto Tra rotazione E velocità massima Piuttosto Interessante Ragion per cui Farla stare Troppo statica Mettendo Sistema di controllo Danni modificato 2 Secondo il sottoscritto Non ha alcun senso E io l'ho giocata Fino a poco fa Con questo potenziamento Qui Però vi posso assicurare Che tramite la propulsione Modificata 1 La nave Assume Un pochino Di Libertà Ulteriore Per poter Scorrazzare A destra A sinistra Con i suoi cannoni Da 457 Che al netto di tutto Comunque hanno una buona Un'ottima Gittata Quindi Non è questo il problema Però ecco È proprio il posizionamento Della nave Che potrebbe Determinare Una Un devastante Una kill O comunque sia Un'utilità Maggiore Cosa che Con le altre due nave La Shikishima E la Yamato Risulta essere molto più pesante Da fare Quindi questo secondo me Già è un tassello Molto importante Se considerate inoltre Che ripeto La gittata è molto elevata E quindi potete rimanere Molto distanti Dall'azione Poche navi Potranno Attaccarvi Anche se io vi consiglio Di non rimanere mai Troppo Troppo lontani A 25 km Altrimenti I vostri punti di vita Non li darete Non saranno di aiuto Alla vostra squadra Per quanto riguarda Il capitano speciale Secondo me È abbastanza obbligatorio Abbiamo una protezione Siluro del 43% Che è sì inferiore Alle altre navi D'accordo Però ripeto Guadagniamo In velocità È il discorso Che ho appena fatto Mettiamo quindi Specialista di consumabili Per un tempo Di preparazione inferiore Rinvigorimento E ancora Vigilanza Rotazione delle torrette E poi abbastanza standard Qui scarica Di adrenalina Nozioni di basi Di sopravvivenza E in ultima analisi Esperto delle riparazioni D'emergenza E ancora Esperto di occultamento È vero che soffriamo Abbastanza di incendi Però ecco Se completate Tutti i puntini Del ragionamento Sto un pochino più lontano Le HL non arrivano E quindi voglio dire Sono in In totale Quasi tranquillità Nel momento in cui La nave giapponese La corazzata giapponese Qualsiasi essa sia Inizia a subire Troppi danni Da HE O comunque Da attacchi nemici Vuol dire che c'è qualcosa Che non quadra Si è rotto un meccanismo Di squadra Che vi ha costretto Ad avvicinarvi troppo E quindi a subire Dei danni Che non potete Non potete assorbire Più del dovuto Perché la nave giapponese Notoriamente Deve rimanere Sul Non dico lunghissima Distanza e lunga Però ecco Parliamo di distanze Superiore Rispetto magari A una nave Tedesca Per fare degli esempi Ecco perché in quella circostanza Vi ho detto Non è che posso resistere Più di tanto Nell'uno contro uno O la chiudo subito Oppure lui Mi fa male a me Poi potenziamenti Che vedete Sono abbastanza standard Le bandierine Se potete mettere Tutte quante E in ultima analisi Ricognito ad alta precisione Quando dovete dare Il colpo sicuro Allora lo attivate La dispersione diminuisce E insomma Il nemico viene beccato Per concludere Vi dico inoltre Che quella che avete visto È la Mizuki Che suppongo Spero che si dica così La mimetica Che si poteva prendere Durante l'evento Dedicato appunto Alla seconda linea Delle corazzate Giapponesi Mi piace molto come nave Però ecco Dopo un po' mi stanca Quindi non è che mi fa impazzire Più del dovuto Perché mi piacciono Altre navi Con altre caratteristiche Ragazzi Vi chiedo solo due cose In conclus In In chiusura Un mi piace Se ancora Non lo avete messo Un commento Per sopportare Il mio lavoro Il vostro intrattenimento L'algoritmo di Youtube Se volete provare il gioco Completamente gratuito Link in descrizione E inoltre Se volete aiutarmi Ulteriormente Valutate un abbonamento A 99 centesimi Mensili Che si possono disdire In qualsiasi momento Il tutto è direttamente Sponsorizzato dalla Wargaming Potrete ricevere inoltre Un super container mensile Completando delle emissioni Una volta Fatto l'abbonamento Che troverete appunto All'interno del vostro porto Per fare questa cosa Dovrete collegare Il vostro account Wargaming All'account Youtube Nella sezione Abbonamenti Vi faccio vedere Come si fa veramente In pochi click Scusate la pubblicità Però insomma Sono cose che mi riguardano Direttamente Quindi Insomma Penso che ci sta E possiate capire Perfettamente Ragazzi Vi ho terminato Come sempre vi ringrazio Per i commenti Le visualizzazioni No come sempre Ci vediamo Poi nel prossimo gameplay Ciao Bungo Hai capito Poi nel prossimo